Oggi si celebra la giornata missionaria mondiale sul tema «La missione al cuore della Chiesa». Esorto tutti a vivere la gioia della missione, testimoniando il Vangelo negli ambienti in cui ciascuno vive e opera. Al tempo stesso, siamo chiamati a sostenere con l'affetto l'aiuto concreto e la preghiera i missionari partiti per annunziare Cristo a quanti ancora non lo conoscono. Ricordo che anche la mia intenzione è promuovere un Messe missionario straordinario nell'ottobre del 2019 a fine di alimentare l'ardore dell'attività evangeliciatrice della Chiesa a Gentes. Nel giorno in cui ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, Papa missionario, affidiamo alla sua intercessione la missione della Chiesa e del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.